Pronto? Pronto Giulia? Ciao Antonella! State studiando? Ma io mi sto allenando! Scusa non è da te Stella? Eeeh... Non ci credo mi aveva detto che veniva da te a studiare! Eeeh no 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 ma infatti è qui è andato un attimo in bagno adesso deve ritornare! Siamo sicure Giulia non è che mi stai dicendo una bugia? No 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 siamo qui che studiamo abbiamo tanti compiti di biologia! Eeeh facciamo così ma entri torna dal bagno aspettiamola al telefono insieme così poi me la passi! Eeeh eeeh Antonella non si sente bene? Giulia io ti sento benissimo! Cosa hai detto? Zzzzzzz!